La partita di oggi cos'è la cosa di cui sei più contento? Cos'è la cosa di cui sei più contento della tua squadra? Che è quella che ha fatto meglio? Più contento è la mentalità perché abbiamo perso la prima set senza possibilità 25-18 e più la squadra è entrata una a palona, l'altra a palona, passo a passo la mentalità di giocare per me è assolutamente ottima non abbiamo giocato in megloro partita non è possibile oggi dopo due settimane con un allenatore, passo non è possibile ma la squadra ha mostrato che la squadra vuol giocare insieme è una squadra, per me è più importante è una squadra che sbaglia molto poco anche questo ha aiutato molto, pochi errori non l'ho visto non lo so, non lo so è mia idea? no, non penso, non credo abbiamo parlato di qualche cosa ma oggi è la vittoria della squadra della giocatore, non da me 10 giorni di lì ho fatto 4-5 finalmente ho dato solo un po' la mentalità abbiamo parlato di mentalità la mentalità ha cambiato qualcosa anche il fatto di far divertire questa squadra dopo la sconfitta di Milano forse c'era bisogno di tirare un po' il fiato di non ci fosse troppa pressione ma è normale che con la squadra che è insieme due, tre, quattro giorni i giocatori che non fanno un'estate terribile allora giocare e perdere un dibuoto all'inizio di qualche partito secondo me è normale è più importante che la squadra far vedere qualche volta la possibilità è lì è tutto